E proseguono intanto gli sbarchi sulle nostre coste. Sono 119 migranti arrivate a Lampedusa nelle ultime ore a bordo di tre diversi barchini soccorsi dalle motovedette della Capitaneria di Porto. Sono stati nove gli sbarchi sull'isola oggi per un totale di 371 migranti. L'hotspot di Contrada in Briacola in poche ore ha accolto oltre 1300 ospiti, alcuni dei quali sono stati trasferiti a Reggio Calabria, altri a Porto in Pedoc. A disporre i trasferimenti la Prefettura di Agrigento d'intesa con il Viminale.